Buongiorno a tutti, oggi vi ho trovato un prodotto tre volte più efficace dell'aloe quindi è dedicato anche a tutti gli innamorati dell'aloe chi è abituato a usare sempre l'aloe, andiamo a vedere insieme ecco qui, un prodotto fantastico con formule ricchissime e concentrate testate su cute sensibili e poi è estratta da coltivazione italiana, etica e sostenibile andiamo a vedere prodotto per prodotto a che cosa serve c'è il gel concentrato, c'è il del bagno schiuma, c'è la crema e è proprio adatta a chi fa una depilazione, una pelle stressata a un'esposizione solare sbagliata se avete una pelle particolarmente secca e disidratata un pochino trascurata, arrossata, anche per gli anziani che stanno sempre a letto è adatta perfino al freddo intenso anche per chi scia e per una pelle insomma particolarmente sensibile vi aspetto in bio profumeria aquilana per provarla insieme